Ragazzi, bellissima promozione su BitGet per i nuovi utenti, fino a 40 USDT gratis per voi e buttateli via i soldi gratis, non dovete mai lasciarveli scappare, vi lascio in descrizione proprio il link di questa pagina, fai trading e condividi 3000 USDT con Michele Maraglieno, ok? Vi lascio il link in descrizione, voi lo cliccate e praticamente vi registrate, è solo per i nuovi utenti, vi registrate cliccando qui, dopodiché depositate 50 USDT, soltanto depositandoli ne avete 20, 20, ok? Poi se fate 10.000 USDT di volumi ne avete altri 20, allora per fare 10.000 USDT di volume è molto semplice, vi basta 100 USDT, alleva 100, sono 10.000 USDT di volume, la tenete aperta all'operazione per un minuto e avete 20 USDT. Allora, in descrizione vi lascio anche i tutorial, oltre a questo link della promo, utilizzate questo così, cliccate e registrati, poi deposita per la prima volta e poi dal vostro account potete fare trading, in descrizione trovate i tutorial per fare trading, per fare copy trading e adesso vi do una strategia, quindi in descrizione ci sono tutti i tutorial, questo è solo il video in cui vi parlo di questa promozione che scala il 29 febbraio. Considerate che ci sono 3.000 USDT, ok? Fila di esaurimento degli USDT dedicati a questa promozione che sono 3.000, quindi se tutti dovessero fare depositare i 50 USDT e fare i 10.000 USDT di deposito ci sarebbero 1.100 posti perché sono 40 USDT per 1.400, ma qui ne abbiamo 3.000, quindi forse ci saranno un'ottantina di posizioni e poi magari non tutti fanno trading, quindi uno vuole solo depositare i 50 USDT per averne 20, con 70 USDT può provare a fare copy trading, ci sono tutti i tutorial, però ecco affrettatevi perché scade il 29 febbraio e ovviamente chi prima arriva prima si prende, quando finiscono i 3.000 USDT finisce la promozione. Sotto avete tutti i termini e condizioni, questa campagna è riservata agli utenti iscritti solo con il referral link di Michele Maraglio, quindi andate in descrizione o utilizzate sì anche il referral link da questa pagina, ok? I premi saranno distribuiti tramite Iron Drop di trading bonus entro 7 giorni lavorativi dal termine dell'evento, quindi entro 7 giorni lavorativi dal termine del 29 febbraio, siamo chiari e trasparenti, quindi scaduto il 29 febbraio riceverete il bonus 7 giorni dopo, ok? E praticamente non sono soldi prelevabili, sono bonus che potete utilizzare per fare trading e copy trading, però quello che guadagnate attraverso questi bonus è prelevabile, quindi se avete intenzione e mi seguite, non vi siete però mai iscritti a Midget, questo è il momento giusto, io vi consiglierei di fare così. Voi andate nel link in descrizione, vi registrate, depositate 100 USDT, ok? Quindi per depositare è molto semplice, basta andare su Buy Crypto, potete usare la carta di credito, di debito, potete usare il bonifico, è semplicissimo, depositate gli euro, se fate con la carta di credito, praticamente potete comprare direttamente gli USDT, quindi pagate euro e ottenete gli USDT, pagate con la carta di credito o il manco, la carta di debito e in gioco è fatto, ok? Dopodiché, quindi avete messo 100 USDT, vi siete registrati cliccando qui, avete maturato i 20 USDT, sette giorni dopo, quindi intorno al 7 marzo, sette giorni lavorativi dopo lo scadere di questa proporzione, quindi dopo il 29 febbraio, avete i 20 USDT, quindi avete 120 USDT, volete anche gli altri? Fate un'operazione, ne un minuto alleva 100 di trading, vi lascio anche qui nelle schede, ho fatto un corso accelerato di trading che è uscito ieri su Bitgett e è molto semplice aprire un'operazione, oppure per ottenere gli altri 20 USDT, oppure avete questi 100 USDT e andate su copy trading, copy, 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 sui future, copy trading, quindi andate su copy trading, ovviamente in descrizione avete tutti i miei tutorial su come appunto spostare i soldi, perché quando pagate con la carta gli USDT vi arrivano sul conto spot, allora li dovete mettere sul conto future se volete fare copy trading e seguire qualcuno, quindi tutti i tutorial su come creare un account, depositare, fare copy trading, le strategie di copy trading, ve li metto in descrizione, qui vi basta scegliere un trader, affidare di quei 100 USDT e potreste anche semplicemente con il copy trading fare questi 10.000 USDT di volume e il gioco è fatto, avete altri 20 USDT, quindi se stavate pensando di iscrivervi a Bitgett questo è il momento, avete 20 USDT depositando 50 USDT e se fate i volumi fino a 10.000 USDT ne avete altri 20, ok? Quindi il link è in descrizione, vi registrate con questo link, fate presto perché ci sono sono 3.000 USDT e trovate quindi il link in descrizione e tutti i tutorial se volete imparare come fare copy trading che è il modo per guadagnare completamente passivo una volta che avete trovato un buon trader farà tutto lui, oppure fare trading, vi lascio anche il tutorial su come fare trading, il corso accelerato che ho pubblicato ieri lo trovate qui nelle schede, se volete iniziare forse questo è il momento, se non avete mai provato e vi volevate scrivere avete un incentivo, avete 20 USDT sul primo deposito e altri 20 USDT se fate dei volumi fino a 10.000 USDT. Il link in descrizione leggete tutti i termini e condizioni, mi pare che bisogna fare anche la verifica dell'identità al che vuoi sì per accedere ai premi, quindi mi raccomando leggete tutto attentamente, iscrivetevi e c'è tempo fino al 29 febbraio ma in realtà ecco potrebbe scadere molto prima perché ci sono solo 3.000 USDT, quindi andate adesso e prendetevi questi soldi gratis.